Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un'altra coppia è capolinea, le voci stanno arrivando in maniera improvvisa e stanno tenendo col fiato sospeso tutti i fan. Ad essere coinvolti da questa vicenda sono Valentina Ferragni e il suo fidanzato Luca Vezil, sebbene dalle loro bocche non sia uscito fuori proprio nulla, almeno fino a questo momento. Ma gli attentissimi utenti non se ne perdono nemmeno una, e quindi hanno immediatamente sottolineato qualcosa di insolito. Gli ultimi rumor farebbero immaginare qualcosa di molto negativo, impensabile fino a qualche tempo fa. Ne parla anche Novella 2000 in questo articolo, dal titolo Valentina Ferragni e Luca Vezil sono in crisi? I dettagli che preoccupano il web. Eppure Valentina Ferragni, parlando del fidanzato Luca Vezil, si era lasciata andare a dichiarazioni bellissime a Verissimo, come ricordato dal sito Novella 2000. Con Luca è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti in vacanza per caso e dopo dieci minuti ci siamo salutati e non ci siamo più rivisti. Io negli anni l'ho sempre pensato e anche lui, poi mi ha riferito. Dopo circa quattro anni io l'ho ritrovato e gli ho scritto. Abbiamo riniziato a parlare, fino a che gli ho chiesto di venire a Milano a trovarmi, perché studiavo lì. E da lì è sbocciato veramente l'amore. In questi giorni, tuttavia, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato agli occhi attenti del web. Alcuni hanno infatti notato che da un po' di tempo Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e di scambiarsi like e a quel punto i più hanno parlato di presunta crisi. Già qualche settimana fa, si era mormorato che i due si fossero lasciati. La coppia ha infatti trascorso l'estate separata e così alcuni maliziosi utenti hanno ipotizzato che Valentina e Luca avessero rotto. Tuttavia, la lontananza è stata dovuta ad alcuni impegni lavorativi di Vezil. Al momento però la Ferragni e il suo compagno non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sull'attuale situazione e non è chiaro cosa stia accadendo tra i due. Voi cosa ne pensate? Si sono veramente lasciati? Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.